Daniele Morandini, segretario della sezione di Sernina dell'Unione Italiana Ciechi. Lo slogan di oggi è La fortuna è cieca, ma dietro questo slogan cosa c'è? Dietro questo slogan c'è una grande lotteria che ha emanato i monopoli di Stato a favore dell'Unione Italiana Ciechi. Nella giornata di oggi, per promuovere la lotteria, abbiamo messo in campo diversi eventi. Siamo presenti a Castelpetroso con la unità mobile oftalmica messa a disposizione dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cicità, dove faremo delle visite oculistiche gratuite e anche degli screening per l'udito, per la misurazione dell'udito. A Disernia saremo presenti in Piazza Celestino V e nella mattinata saremo presenti anche al Centro Commerciale in Piazza. In questi tre punti, oltre a distribuire materiale informatico sull'attività dell'Unione, venderemo i biglietti della Lotteria Louis Braille, i quali fondi verranno spesi in favore di attività volte alle persone non vedenti. Attività di vario genere, dall'assistenza, agli accompagni, alle sbrigopratiche, insomma tutte attività in favore dei non vedenti. Intanto è anche importante farsi dei controlli, sia alla vista che all'udito. Esatto, sì, una delle nostre maggiori attività è quella di prevenzione. Inoltre dimenticavo che nel pomeriggio faremo anche una dimostrazione all'interno della villa comunale di uno sport che si chiama showdown, che è possibile praticarlo dai non vedenti ai vedenti. I vedenti ovviamente metteranno una benda e proveranno questo sport che sta prendendo piede in tutta Italia. insomma, tramite anche la collaborazione con il CIP. Diciamo che è una specie di ping pong. Sì, orientativamente un ping pong in cui la palla scorre su un tavolo e la palla viene lanciata con delle racchette. I giocatori, essendo bendati, devono percepire il rumore della palla, quindi non vedendola direttamente ma percependo solo il rumore. Volendo acquistare dei biglietti di questa lotteria, come fare? Allora, i biglietti noi siamo spesso in giro per tutta la provincia, in Isernia e in tutte le cittadine di Isernia. Spesso siamo nei centri commerciali, siamo nelle piazze e se poi non ci trovate potete venirci a trovare nella nostra sede di Via Sicilia 30 a Isernia. Ma che premi ci saranno? Il primo premio è di 500 mila euro. L'estrazione ci sarà l'8 settembre, in più poi ci saranno dei premi di consolazione che verranno stabiliti in base alla vendita dei biglietti.